hola a todos io sono cronox ben ritrovati nel mio canale come sempre nel primo commento vi lascio il link al giveaway che del tutto gratis quindi mi raccomando partecipate che a tot partecipanti vi farò vedere il vincitore in più vi ricordo che nel primo link in descrizione trovate quello per donare nel caso vogliate supportare il cronox nazionale ma adesso passiamo subito in game eccoci qua carissimi stavolta con claudette nel mattatoio e rancitito ma com'è che l'ho detto vabbè dettagli vediamo un po il killer allora direi di fare subito questo gen vieni vieni cara riesce a passare si vai iniziamo air campanaro raga allora io c'ho la sfida che devo salvare survival rappesi quindi dovrei evitare salvataggi con la torcia chip e chop hanno fatto no vabbè seriamente no non ci posso credere ragazzi non ci posso credere guarda l'incazzato ci si è messo in armadio velocemente con il vicino so no vabbè no so rango 50 altro che ok mamma mia detto io rango 50 ma almeno gli altri facessero già a uno è stato fatto ok è già morto quel madonna santa che tristezza che tristezza pure è staccato il cavo sto fallito madonna rango 50 eh vabbè raga mi sa che è un'altra partita in cui dovrò puntare alla botola vediamo vediamo mettere anche i 50 in squadra che staccano il cavo pure dov'è sbagliato il gen perché non capito da dove venisse potrei salvarlo con la torcia ma vi ripeto c'ho la sfida che devo sganciare i survivors dal gancio assolutamente queste sfide non le finisco mai che le ho da mesi e mesi però se sti imbecilli si lasciano andare o staccano il cavo dai ma stavi da quello perché veni da me c'è così a caso perciunto è prececato sto kill va bene e ci si ricura partita alquanto straziante devo dire però si fa quel che si può abbiamo quasi finito e niente per un millimetro ho sbagliato va bene qua guarda convinto mi chiamavano mister convinzione guarda guarda guardalo stavolta ce la fa di wifi ma ce la fa ora gamba ok non vedevo più pallet giro giro tollo si guarda in giro pensando cosa ne sto facendo della mia vita gli altri non finiscono in gen mi fa mi fa e invece no l'ho fatto per mettervi su spance ragazzi ti becchi pure la ciecata pezzo di merda oh li stanno facendo i gen dai finalmente ha capito che con me non ha speranze il killer ci ha messo tanto a capirlo ma ce l'ha fatta dai meglio tardi che mai sta cosa esilarante questo inseguimento ora ce l'ha con l'altra clodette mamma mia sei durata nemmeno un decimo di quanto son durato io gg per te dai appendila che mi serve che l'appendi perchè non la sta appendendo ah perchè sto inseguendo meg ok non so se faccio in tempo si dovrei farcela vai vai via mamma mia mamma mia ma questo c'ha proprio l'abbonamento qui col più wifi eh abbonamento mediaset wifi hit porca puttana eva dai almeno che sarò salvato in realtà ho salvato anche meg ma dettagli dov'è no proprio qua dove veni mortacci tua mannaggia il demonio ah che l'ha raccolta non sto usando la torcia perchè già ve l'ho spiegato devo fare la sfida pure in basement andamo bene dai dai non camperare almeno dai arrivo e campera l'altra che sta a fa' ok il campanale è lì tutto apposto l'altra si fa a battere ecco che sta a fa' l'ho detto i ranghi 50 cioè in squadra vai andiamo a salvarla però almeno così mi fanno fare la sfida più velocemente guardalo madò ancora col wifi ancora col wifi no non me l'ha lanciato madonna cosa ho fatto ragazzi eh vai no quella roba del pallet non è stata fatta di proposito ma è stata una cosa superba poi si sono decisi a fare i generatori dai ci credo lo sto trattenendo io da tre quarti d'ora il killer è un parto sta partita ragazzi non non vorrei mai vi trovaste voi in una partita come questa che è un vero parto e che cosa davvero più veloce questo è un'altra parte la parte è un perchi non è stato la stessa in un'altra parte non è stato il mio che è un'altra parte è un'altra parte è un'altra parte ci ho provato Ah ma io pensavo fosse all'ultimo stadio Perciò stavo usando la torcia Incredibilmente l'altro ha fatto il gen Quasi mi metto a piangere per l'emozione Allora questo mi puzza di Di noed Mi puzza di noed Invece no Ma come ha fatto a prendere me Cioè senza senso Ma perdo per sta stronzata C'aveva Meg davanti e ha preso me ragazzi No senso No senso proprio T'ho detto c'è l'abbonamento Mediaset wifi Fa hit questo Se vengono in due ce la fanno tranquillamente Dai vieni 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 Meg Meg Madonna Venite in due Venite in Non ce la posso fare ragazzi Non ce la posso fare Ma nemmeno ranghi 50 Ranghi 100 sono questi qua Ma guarda qua che stanno facendo No ma io sta partita la devo caricare Per farvi vedere Quanto fanno cagare questi tizi Ragazzi Non ci posso credere Spera che forse non è detta l'ultima Dai vieni vieni clodette Daglie Ma io sta volta non salvo nessuno Me ne vado Che c'è un miracolo che sono vivo Pensavo di morirci vi dico la verità Hanno giocato non male di più Guarda incazzato convinto Guardalo GG Ma che parto comunque